Se il tuo obiettivo è quello di far crescere il deltoide laterale al massimo, quindi proprio avere delle palle di cannone al posto delle spalle, non devi mai andare ad abbinare idealmente questi due esercizi nella stessa sessione di allenamento. Perché? Perché sono identici. Possono sembrare differenti, adesso li andiamo a vedere, ma sono identici, quindi attenzione. E per riuscire ad affrontare la tematica, dobbiamo ricordarci che il deltoide è composto da tre regioni. Deltoide anteriore, laterale e posteriore. E nel nostro caso ci interessa il deltoide laterale. E per affrontare di nuovo questa tematica mi davo a assicurare che tutti sappiano che se il proprio obiettivo è quello di massimizzare i risultati, quello che vogliamo andare a fare è andare a lavorare sul piano scapolare. Come si vede in questa clip qua. Quindi io non vado ad alzare il braccio allineato al corpo, ma lo vado ad alzare sui 30 gradi. Questo cosa mi consentirà di andare a fare? Mi consentirà di andare a sentire meno i trapezzi, perché i trapezzi saranno in una posizione peggiore per essere lavorati, e di lavorare maggiormente deltoide laterale. Fra l'altro non mi sono ancora presentato, ciò a piacere il mio nome è Dardo Baldini. È già compreso che qui il livello di informazioni è più alto rispetto a quello che normalmente trovi là fuori. Perché? Perché qui noi ci basiamo sulle informazioni scientifiche in continuo aggiornamento, comprendendole. Non come molto spesso succede là fuori che la persona dice io mi baso sugli studi scientifici e poi non ci capisce una mazza. No, noi qui andiamo a vedere ciò che gli studi ci dicono e lo andiamo ad applicare nell'allenamento di tutti i giorni per massimizzare i risultati. Quindi se vuoi i massimi risultati, nel minor tempo possibile, questo è il posto giusto. E ecco, dobbiamo andare ad alzare il braccio sul piano scapolare, andando a pensare cosa? Non tiro la mano su, ma porto la mano il più lontano da me, pensando di portarle verso le pareti esterne. Questo è quello che ci consente di lavorare al massimo il deltoide laterale. E un'altra osservazione molto importante, perché ci tengo a salvaguardare le tue articolazioni, è quello di non tenere mai le scapole bloccate nelle alzate laterali, quindi di non fare questa roba qua e di andare a fare le alzate laterali, perché? Perché in questo modo qua, passami il termine e ti fotterai la mobilità. Se poi ti rovini la mobilità, ci vogliono mesi per recuperarla. E quindi probabilmente non ne vale la pena, anche perché lavorerai peggio il deltoide laterale, non meglio. Anche qualora tu potessi pensare, no ma io in questo modo lo sentirò bene. Non è vero. E hai già complesso di che livello informazioni stiamo parlando se ti iscrivi così YouTube. Ti consiglio tutti i video simili a questo e vado a pubblicare così massimizzi i risultati. Ecco, compreso anche questo, un'ultima cosa che noi dobbiamo andare a chiarire per andare a affrontare questa tematica qua, è il profilo di resistenza di un esercizio. Cosa significa questo? Significa quando un esercizio è più duro lungo tutto il movimento che andiamo a fare. Per esempio, se io mi vado a fare delle alzate con i manubri, come abbiamo detto prima, quindi non più andando ad alzare il braccio allinato al corpo, ma sui 30 gradi, come si vede in questo caso qua, dove sarà la massima resistenza? Questo è semplice. Ti lascio 1-2 secondi mentre sto parlando per pensarci, però sicuramente ci sarà arrivato. È in alto quando abbiamo il braccio completamente in alto all'altezza della spalla, perché abbiamo la gravità, in quel caso è l'esercizio il più duro possibile. Quando il braccio è giù, quindi vicino alle nostre gambe, come capiamo, praticamente la resistenza è nulla. Quindi, in questo caso qua, si dice che questo esercizio ha la massima resistenza in contrazione. Dai, te ne faccio vedere un altro. Vediamo questo atleta su questa panca, ok? In questo caso qua, questo atleta parte con la mano stesa, ok? E il manubrio. Di nuovo, in questo caso qua, tu cosa sai? Che esiste la gravità. E quindi, mano a mano che io vado a portare la mano in alto, quindi in questo caso qua, siccome se noi tracciassimo due linee perpendicolari, ok? Linee perpendicolari significa che sono dritte. Una linea dritta dal manubrio fino al suolo e una linea dritta dalla spalla fino al suolo, praticamente noi avremmo la distanza sarà massima. Ecco, in questo caso qua, si dice che questo esercizio qua va a mettere maggior enfasi in allungamento. Ora, tu magari ti potresti domandare, ma io ed ho sentito dire, però non ho ben compreso, che ci sono muscoli che reagiscono meglio ad esercizi in allungamento e in accorciamento. Se non l'hai mai sentito, dimenticati questo che ti sto per dire in questo prossimo minuto. Ma se lo hai sentito dire, considera che è una cavolata, ovvero nessun muscolo reagisce meglio ad esercizi con enfasi in allungamento, a meno che tu non sia un completo neofita. E ecco, è importante sapere che quando noi andiamo a fare un programma di allenamento, non vogliamo andare ad avere esercizi ridondanti. Cosa significa? Come abbiamo detto adesso, non vogliamo andare ad avere due esercizi che vadano a mettere maggior enfasi in contrazione entrambi, o due esercizi che vadano a mettere maggior enfasi in allungamento entrambi. Perché? Perché abbiamo già stimolato il muscolo in quella parte del movimento, quindi è inutile andare a rimetterci altro. Perché? Perché ogni esercizio che noi andiamo a fare ci fa accumulare fatica e fa diventare l'esercizio successivo che noi andiamo a fare meno ipertrofico, quindi ci fa simulare peggio il muscolo, e quindi noi dobbiamo selezionare in modo accurato gli esercizi, in modo tale che non vi sia una palese ridondanza. E ti dico già che molto probabilmente se fai delle schedine sfigate, come si vede in questo caso qua, tipo quelle che danno in palestra, ok? Dove ti mettono esercizi insieme senza spiegarti a cosa servano, quale sia l'enfasi, o addirittura peggio, tipo questi che non hanno nemmeno le immaginine, purtroppo il rischio che tu stia facendo qualcosa di ridondante c'è. E se dopo aver visto questo video vorrei smettere di allenarti a caso, ho un pacchetto chiamato a Scienza Dura, che conta ad oggi 36 programmi, non schedine. Un programma è un insieme di schede giornaliere, dove ciascuna dura 12 settimane, quindi 3 mesi, e come si vede non sono foglietti sfigati, sono praticamente più di 100 pagine di programma che ti danno tutto, numero di serie, numero di ripetizioni, tempo di recupero. C'è un link che ti riporta al proprio video tutorial, ci sono programmi per la palestra e per la casa, dai 3, 4, 5, 6, 7 allenamenti a settimana, puoi prendere anche un singolo programma di allenamento, hai comunque il mio supporto a vita, avrai 350 video tutorial, provi il programma, ti piace, ottieni risultati e poi ti fa l'upgrade all'intero pacchetto di a Scienza Dura, oppure ti prendi l'intero pacchetto a Scienza Dura direttamente al mio contatto diretto, ti dico io l'ordine dei programmi, e allora lì, proprio lì, vai che ho un piacere, metti massa che ho un piacere. Se una volta finito di vedere il video, faccio dare un'occhiata ai programmi singoli o all'intero pacchetto, te li lascio, giù in descrizione e nei commenti c'è il link. E ecco, compreso quindi questo, cosa noi dobbiamo andare a fare? O meglio, cosa noi non dobbiamo andare a fare? Ovvero, quali esercizi non dobbiamo andare ad abbinare? Non vogliamo andare ad abbinare, per esempio, un esercizio come le alzate laterali, con i manubri, come vediamo in questo caso qua, che abbiamo detto, avere la massima resistenza in contrazione, con delle alzate laterali ai cavi, con le carrucole basse in basso. Perché? Perché in entrambi i casi, noi andremo ad avere il picco di resistenza, quindi quando l'esercizio è più duro, praticamente in contrazione. Noi, quindi, con le carrucole in basso, abbiamo più o meno il picco in alto. Con le alzate laterali, con i manubri, abbiamo di nuovo il picco in alto. E quindi, praticamente, uno ne sceglie uno. Poi, magari, all'interno del tuo programma settimanale, li metti anche tutti e due, ma non nella stessa sessione, perché è inutile. Sarebbe un po' come voler andare a fare delle spinte su una panchia inclinata con il bilanciere e delle spinte su una panchia inclinata con i manubri. È la stessa identica cosa. Se io volessi andare a fare una cosa intelligente, cosa dovrei andare a fare? Se mi vado a fare delle alzate con i manubri, di nuovo lavorando sul piano scapolare, ci vado ad abbinare un esercizio complementare. Quindi, se l'alto mi metteva con la massima enfasi in contrazione, me ne vado a scegliere uno che mi mette la massima enfasi in allungamento. Come, per esempio, le alzate laterali ad Y, andando a posizionare la carrucola all'altezza dei polsi, in questo modo qua, la massima resistenza sarà in allungamento. E tu mi dici, Edo, ma con i cavi non mi hai ancora spiegato come si riconosce la massima enfasi. Non ti preoccupare, basta guardare quando l'avambraccio forma con il cavo un angolo a 90 gradi. Come vedi, in questo caso qua, il picco di resistenza è nel momento di partenza. E quindi, in questo caso qua, è un esercizio con maggiore enfasi in allungamento. E quindi, alzate laterali con i manubri e alzate laterali ai cavi è un ottimo abbinamento che noi possiamo andare a fare tranquillamente nella stessa sessione di allenamento. Oppure, quello che abbiamo detto prima, le alzate laterali con il manubrio sdraiato su una panca, come si vede in questo caso qua, abbiamo detto che questo è un esercizio che siccome, per via della gravità, l'esercizio è più duro in allungamento del momento di partenza, possiamo benissimo andarlo ad abbinare, di nuovo, con le alzate laterali, con i manubri. Oppure, questo esercizio qua, sempre sdraiato su una panca, possiamo andare ad abbinare con le alzate laterali, con le carrucole in basso. Perché, di nuovo, come si vede più o meno, la massima resistenza, guardando quando l'avambraccio forma con il cavo un angolo a 90 gradi, è sempre di nuovo nel momento di contrazione. Ma, di nuovo, per esempio, se noi andiamo a fare un esercizio sdraiati su una panca, ok? Con le cavigliere o le polsiere, tanto poco fa differenza, questo vale per tutto. Puoi utilizzare quello che preferisci, che ti torna più comodo, dove ti senti più forte. Vai a mettere una panca o te lo vai a fare al suolo, ok? Vai a prendere due cavi e vai ad alzare. Come si vede, anche in questo caso qua, la massima resistenza, più o meno, è nel momento di contrazione. Ecco che, io di nuovo, non vado a mettere questo esercizio con delle alzate, con i manubri o con delle alzate, con le carrucole in basso ai cavi. Perché, di nuovo, è la stessa identica cosa. Sì, magari uno ce l'ha 5 gradi in più e uno 5 gradi in meno, ma è la stessa cosa. Tu vuoi ragionare in modo intelligente perché devi ricordarti che in una sessione di allenamento noi ci vogliamo muovere fra le 2 e le 6 serie per gruppo muscolare per allenamento. E quando noi parliamo di 6 serie, parliamo, se stai allenando il deltoide anteriore e il deltoide laterale, di tutto questo. Chiaramente a patto che tu arrivi al cedimento o una ripetizione dal cedimento e che tu vada a rispettare i giusti tempi di recupero che sono di almeno 2-3 minuti fra le serie allenanti. Ho già spiegato queste cose qua tantissime volte trovi i video sul canale. Se ecco rispetti queste cose qua ti puoi muovere fra 2 e 6 serie e attenzione non è detto che 6 serie sia la scelta giusta. 6 serie è il massimo ma per te magari la scelta giusta sono 4 e quindi capisci che se tu hai 4 serie allenanti fra cui scegliere magari una è un movimento di spinta ad un macchinario ad una smith machine e una serie se n'è andata e hai magari altre 3 serie con cui giocare capisci che se ne metti 2 a delle alzate con i manubri e una delle alzate ai cavi con le carucole in basso avresti potuto utilizzare per ottenere più risultati con magari un esercizio che mettesse maggiore enfasi in allungamento. Poi attenzione non sto dicendo che altrimenti non avresti messo risultati è che semplicemente ci sono tantissime persone che buttano via a tempo in palestra che finiscono di allenarsi e sono stanche morte quando in realtà il loro allenamento non è stato massimizzato cioè potevano ottenere di più in termini di stimolo si sentono stanche ma il muscolo non è stato toccato come sarebbe dovuto essere toccato e questo è un peccato e tutto questo si applica per tutti i gruppi muscolari mi raccomando da ora in poi quando controllerai la tua scheda assicurati di rispettare questi paletti mi raccomando utilizzo un numero di ripetizioni non troppo alto non superiore alle 10 mantieniti tra le 10 o meno ripetizioni in questo modo ottimizzerai perché arrivare al cedimento molto vicino ad esso con ripetizioni alte è molto più difficile fa accumulare comunque più fatica se vuoi smettere di allenarti con le schedine sfigate io l'ho detto ci sono i programmi di scienza dura sono oltre 36 e ce ne sono anche di specializzazione ora questa è solamente la copertina ce ne sono anche di specializzazione per le spalle che però ti fa allenare tutto il corpo sia in palestra che a casa così come sono tutti i programmi di scienza dura dai 3 fino ai 7 giorni dell'anamento a settimana un supporto a vita anche prendendo un singolo programma di allenamento e poi ricordo che è possibile fare l'upgrade all'intero pacchetto pagando solo la differenza oltre 350 video tutorial che ti diranno come andare a fare l'esercizio nel migliore dei modi programmi di nuovo completi di tutto serie ripetizioni progressioni da andare a fare in settimana in settimana non robetta di questo tipo che tu di settimana in settimana ripeti sempre la stessa roba se hai delle domande su quale percorso posso fare per te scrivi ad Alessandro o Maddalena queste mail qua a questo rumozza qui ti aiuteranno loro e scrivi sempre a loro qualora volessi un programma personalizzato capiranno se ci sono i margini di collaborazione e ti daranno tutte le informazioni noi come sempre ci vediamo tutti i geni all'una buon allenamento a tutti ciao a tutti peace